Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Arrestato questa mattina Taranto il responsabile dell'incendio che la notte dello scorso 12 febbraio aveva distrutto l'auto di un pensionato di 70 anni. Il veicolo parcheggiato sulla pubblica via si trovava proprio di fronte all'abitazione del settantenne. Le fiamme, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, avevano completamente devastato l'autovettura non assicurata per questa tipologia di danni, nonché danneggiato parte del veicolo di un altro pensionato. La presenza a terra di tracce di liquido infiammabile e l'odore di benzina nell'aria avevano subito fatto comprendere la natura dolosa dell'incendio. A distanza di un mese dall'evento, grazie alle indagini dei carabinieri di Taranto, il responsabile è stato individuato e portato in carcere, fondamentali per le indagini le immagini del sistema di videosorveglianza presente lungo la via. Dalla loro analisi minuziosa, i militari dell'arma sono riusciti a individuare il momento in cui l'uomo ha lanciato sull'auto della benzina e un pezzo di diavolina accesa. Altre telecamere hanno permesso di capire da quale punto esatto è stato lanciato il liquido che ha innescato l'incendio, permettendo di giungere all'identificazione del responsabile, un 56enne già agli arresti domiciliari. L'uomo, convinto che il buio potesse nasconderlo, non si è accorto di essere ripreso dalle telecamere, mettendo in atto un gesto che sarebbe scaturito da alcuni screzzi con il proprietario del mezzo distrutto, colpevole di avergli ricordato di dover pagare le spese condominali. I finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno sequestrato 1,3 milioni di prodotti ritenuti pericolosi per i consumatori all'interno di 11 esercizi commerciali ubicati a Taranto, Manduria, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe e Maruggio. Tra i prodotti sequestrati anche articoli di bigiotteria e giocattoli, tutti privi delle informazioni previste dal Codice del Consumo e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Al termine delle indagini, i titolari delle 11 rivendite interessate dai controlli sono stati segnalati alle autorità amministrative. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica organizzativa e strutturale della filiera, nonché al recupero a tassazione dei ricavi derivanti dalle condotte illecite. Sono in aumento negli ultimi mesi in Puglia le denunce per i reati di truffa del cosiddetto trading online, un fenomeno criminale estremamente insidioso e di elevato allarme sociale, soprattutto per l'ammontare del danno economico patito dalle vittime, che va da poche migliaia fino ad oltre 100.000 euro. Nello schema ricorrente, la truffa nasce da un contatto diretto tra vittima e truffatore attraverso piattaforme social, app di incontri, chiamate promozionali ricevute dalla vittima e in alcuni casi fatte dalla vittima stessa, rispondendo ad annunci presenti sui social che promettono lauti guadagni. La truffa come oggetto è un presunto investimento nel mercato delle criptovalute, notoriamente caratterizzato da una volatilità di prezzo tale da incentivare il malcapitato ad investire in genti somme di denaro con l'illusione di guadagni molto elevati. In tutti i casi la vittima è invitata a registrarsi su una piattaforma online gestita dal truffatore, che riporta dati falsi al solo scopo di motivare il malcapitato a versare somme sempre maggiori. Quando la vittima chiede poi di monetizzare i propri guadagni, i truffatori chiedono sempre altro denaro, a titolo di presunte tasse da versare all'autorità di governance inglese, ovvero commissioni al broker stesso. Le molteplici possibilità di polverizzazione e anonimizzazione dei capitali attraverso il sistema delle criptovalute rende inoltre molto complesso il recupero delle somme oggetto di truffa. È pertanto importante adottare ogni possibile cautela nelle operazioni di trading online, evitando di trasferire denaro a soggetti sconosciuti e rivolgendosi ad operatori del settore qualificati e regolamentati, controllando per questo sul sito della Banca d'Italia, della Consob, l'autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari e dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. In arrivo da Sace per Acciaieri d'Italia, 220 milioni di euro, la società assicurativo finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia ha presentato nella giornata di ieri le due linee di factoring a sostegno dell'ex Silva di Taranto. 100 milioni di euro sono destinati alle casse di Acciaieri d'Italia, versate come anticipo dei crediti che il siderurgico vanta nei confronti dei suoi clienti, ai quali si aggiungono 120 milioni dedicati ai fornitori. Alla società controllata dal governo sono stati ceduti i crediti vantati da Acciaieri d'Italia in cambio di un importo che potrà essere utilizzato per le esigenze più urgenti. Gli altri 120 milioni di euro, invece, saranno utilizzati per colmare i debiti dell'ex Silva. In una nota di Sace si legge anche che l'impiego delle risorse sarà disciplinato dalle norme previste per l'amministrazione straordinaria. Presentate questa mattina le giornate FAI Primavera 2024, nel weekend del 23-24 marzo sarà possibile visitare in tutta Italia luoghi interessanti e meno conosciuti. A Taranto sarà possibile scoprire l'arsenale militare marittimo inaugurato nel 1899 che oggi consta di quattro settori e custodisce l'interessante mostra storica arsenale con cimeli navali. Sì, prossimo weekend 23-24 marzo, la 32esima edizione delle giornate FAI di Primavera. La delegazione FAI di Taranto si è impegnata per un anno intero, si può dire, nello scegliere per tutta la cittadinanza questi siti veramente meravigliosi. Taranto con questo percorso inedito all'interno dell'arsenale, un percorso di esperienze, un percorso che ci farà scoprire delle particolarità, delle chicche. Tra l'altro il FAI nazionale ha inserito proprio l'apertura dell'arsenale militare di Taranto, fra le chicche nazionali, fra le 750 aperture che si fanno in tutta Italia, l'arsenale rappresenta una delle chicche, delle particolarità a livello nazionale. E poi tante altre aperture in provincia, San Giorgio Ionico con la masseria Feudo sulla strada di Roccaforzata, Grottaglie con un percorso all'interno del centro storico con tre siti, antica farmacia in piazza della Maddalena, la chiesa di Sant'Antonio degli Olivi e casa Mastro Paolo e Manduria con la masseria Cuturi dove è nato il primitivo di Manduria. E poi sul versante occidentale la terza con il rifugio dell'anima che è uno splendido giardino pensile sulla gravina, affacciato sulla gravina con delle persistenze ruprestri, con degli affreschi anche molto particolari. E a motto la due chiese, la cappella dell'annunciazione è la cappella della Madonna di Costantinopoli. Tutto questo percorso è stato studiato da noi, diciamo, seguendo l'idea del recupero. Sono tutti i siti che hanno diciamo subito, ecco, hanno avuto un intervento di recupero, per esempio quello qui dell'arsenale con il recupero del bacino Brini, il bacino storico di fine ottocento dell'arsenale, ma anche la masseria Cuturi, questi tre luoghi di Grottaglie, la masseria Feudo di San Giorgio Ionico sono tutti i siti che hanno subito un intervento di recupero e quindi di valorizzazione e di restituzione alla cittadinanza. Anche quest'anno a Taranto la settimana del Fiocchetto Lilla, istituita nel 2018, è dedicata all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini sui disturbi alimentari. Nel pomeriggio di ieri, 14 marzo, presso la Biblioteca Comunale a Clavio, un incontro rivolto a tutta la cittadinanza con ingresso libero e gratuito per il trattamento e la prevenzione dei disturbi dell'alimentazione con esperti e professionisti del settore. Sicuramente parlandone, parlandone con qualcuno, non chiudendomi in me stessa, cercando appoggio in quelle persone che nonostante non fossero direttamente colpite per fortuna da questo disturbo, sono riuscite a darmi il loro supporto, a farmi sentire accettata, a farmi sentire capita e soprattutto a farmi sentire meno diversa da quello che mi sentissi all'epoca. Quindi sicuramente avere qualcuno che ti appoggia e ti capisce e non ti discrimina per questo disturbo fa tanto in modo da scuoterti e farti un attimo ritornare sulla retta via, fra virgolette, farti pensare magari un po' meno a questa, farti concentrare meno su questa realtà che stai vivendo. Il mio intervento parlerà di come una dieta o un approccio prescrittivo possono essere fattori di rischio, mantenimento per il disturbo alimentare e quindi di quanto sia necessario non solo intraprendere dei nuovi percorsi di cura non prescrittivi ma anche lavorare in equippa e l'importanza dell'interdisciplinarità. Un incontro su dare informazione appunto ai partecipanti, alle famiglie e a chi è vicino a soggetti che soffrono di questo disturbo. L'evento è stato pensato poi all'interno della programmazione più ampia della settimana del Fiocchetto Lilla che è una settimana che ogni anno dal 9 al 16 marzo si occupa di sensibilizzare e informare appunto la popolazione, i cittadini, le famiglie sui maggiori disturbi alimentari in modo da intervenire in ottica preventiva su quelli che sono appunto i disturbi alimentari. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.